Kaiju vs Jägers, la battaglia per la sopravvivenza umana. Dal fondo del Pacifico, creature mastodontiche conosciute come Kaiju hanno iniziato a emergere, seminando il panico e la distruzione nelle città costiere. La loro improvvisa apparizione ha sconvolto il mondo, mettendo in pericolo milioni di vite umane. La fonte di questi mostri è un portale interdimensionale situato nelle profondità oceaniche. Questo varco spazio-temporale permette il passaggio delle creature da un'altra dimensione, rendendo chiaro che la minaccia non è naturale, ma di origine sconosciuta e altamente pericolosa. L'umanità, inizialmente colta di sorpresa, ha reagito con paura e confusione a agli attacchi dei Kaiju. Le forze armate nazionali si sono dimostrate inadeguate di fronte a queste gigantesche creature, evidenziando la necessità di una risposta più strutturata e potente. Di fronte a una minaccia così devastante, è diventato evidente che nessun paese da solo avrebbe potuto fronteggiare i Kaiju. È nata l'urgenza di una cooperazione internazionale, unendo risorse, tecnologie e competenze per combattere un nemico comune. In risposta, è stato lanciato il progetto Jäger, un'iniziativa globale volta a creare enormi robot da combattimento pilotati da umani. Questi colossi meccanici sono stati progettati per affrontare i Kaiju in battaglia, offrendo una speranza concreta per la sopravvivenza dell'umanità. La creazione dei Jägers ha richiesto un impegno tecnologico e scientifico senza precedenti. Gli ingegneri hanno dovuto sviluppare materiali resistenti e leggeri per costruire colossi meccanici capaci di fronteggiare i Kaiju, integrando sistemi di intelligenza artificiale avanzati per migliorare le capacità di combattimento. La selezione e formazione dei piloti sono cruciali per il successo del progetto Jäger. I candidati devono dimostrare abilità fisiche eccezionali, oltre a un apporto e compatibilità psicologica con il partner. Un rigoroso addestramento militare e mentale li prepara ad affrontare le sfide dei Kaiju. Il ponte neurale è una tecnologia rivoluzionaria che collega le menti dei piloti, permettendo loro di controllare i Jägers come un'estensione del proprio corpo. Questa connessione sincronizzata garantisce reattività e precisione nei movimenti, essenziale durante gili scontri con i Kaiju. La sincronizzazione neurale non è priva di rischi. I piloti possono sperimentare effetti collaterali come stress mentale intenso e perdita temporanea di identità. La sincronizzazione richiede una perfetta armonia tra i piloti, altrimenti possono verificarsi disastri durante le operazioni di combattimento. Per garantire una risposta rapida, agli attacchi dei Kaiju sono state costruite basi operative per i Jägers, lungo le coste delle nazioni più a rischio. Questi avamposti sono dotati di strutture all'avanguardia per la manutenzione e il rifornimento rapido dei Jägers, assicurando prontezza operativa. I Jägers affrontarono i Kaiju per la prima volta con battaglie epiche. Le città costiere divennero campi di battaglia, con macchine giganti e mostri che si scontravano in scenari apocalittici. La popolazione mondiale osservava con ansia e speranza. Le strategie di combattimento contro i Kaiju si evolsero rapidamente. I piloti adattarono le tecniche, sfruttando le debolezze dei mostri. Con l'esperienza, i Jägers divennero più efficaci, ma i Kaiju si adattavano altrettanto velocemente, rendendo ogni scontro un nuovo enigma. I piloti dei Jägers affrontavano enormi pressioni psicologiche e fisiche. Essere collegati mentalmente durante i combattimenti prolungati metteva a dura prova la loro resilienza. Nonostante l'addestramento, gli effetti a lungo termine erano imprevedibili, con alcuni piloti che mostravano segni di profonda affaticamento mentale. Le storie di eroismo e sacrificio dei piloti ispiravano il mondo. Questi uomini e donne mettevano a rischio la loro vita per proteggere l'umanità, diventando simboli di coraggio. Le loro imprese erano celebrate, ma spesso a un costo personale molto alto. Scienziati e militari collaborarono incessantemente per migliorare i Jägers. Ogni battaglia forniva nuovi dati, utilizzati per sviluppare tecnologie avanzate. Questa sinergia tra cervelli e muscoli portò a innovazioni che rendevano i Jägers sempre più potenti e adattabili alle nuove minacce. I nuovi modelli di Jägers incorporano tecnologie avanzate, frutto di anni di ricerca e sviluppo. Questi robot sono più rapidi, potenti e resistenti rispetto ai loro predecessori, includendo armature rinforzate e sistemi d'arma migliorati per affrontare Kaiju sempre più letali. Le armi speciali sviluppate per contrastare i Kaiju spaziano da cannoni a plasma ad armi a energia concentrata. Questi strumenti permettono di infliggere danni significativi anche ai Kaiju più robusti, aumentando le probabilità di successo nelle battaglie cruciali. Gli scienziati hanno analizzato a fondo le motivazioni e l'origine dei Kaiju, scoprendo che sono creati da una civiltà avanzata in un'altra dimensione. Queste creature sono inviate per invadere e conquistare la Terra, rendendo la chiusura del portale una priorità. Un piano a lungo termine per chiudere il portale interdimensionale viene messo a punto, coinvolgendo un attacco coordinato e l'uso di tecnologia avanzata per sigillare definitivamente la breccia. Questo piano richiede la cooperazione di tutte le nazioni coinvolte. La battaglia finale per chiudere il portale interdimensionale è epica e decisiva. Gli Eggers e piloti combattono con coraggio, riuscendo a sigillare la breccia e mettere fine alla minaccia dei Kaiju. L'umanità può finalmente respirare un sospiro di sollievo. Le ripercussioni globali post-conflitto hanno segnato profondamente le città, ora impegnate nella ricostruzione. L'umanità, unita nella tragedia, ha mostrato una straordinaria capacità di resilienza e adattamento, trasformando le rovine in simboli di speranza e rinascita. La crisi ha evidenziato l'importanza della cooperazione internazionale, rafforzando i legami tra le nazioni. L'unità dimostrata di fronte alla minaccia ha lasciato un'eredità duratura, un promemoria del potere collettivo dell'umanità quando si unisce contro sfide comuni. Non perderti le prossime storie fantastiche. Metti un like, attiva la campanella e iscriviti al canale.